Il mio piacere è introdurre il professor Giancarlo Comi, Presidente dell'Europea Cerco Foundation e Presidente del Comitato Scientifico della Human Brain Fondazione Prada. Penso che sia un modo interessante di concludere questa sessione, guardando anche a quello che oggi chiamiamo cittadinanza scientifica, l'impegno di Fondazione Prada va anche in questa direzione e quindi avvicina la ricerca, le neuroscienze cittadine e questo è un aspetto, un impegno che ci vedrà coinvolti in futuro. Professore Uccomi? Grazie, grazie molte Paola, grazie Mario per questo cortese invito. Sì, devo dire che l'invito a partecipare oggi mi ha fatto particolarmente piacere perché introduce un tipo di attore complementare a tutti quelli che abbiamo visto in questa ricchissima mattinata e questo attore è Human Brains. Human Brains è un progetto che è stato iniziato nel 2018 ed è nato proprio per una volontà di Miuccia Prada, una volontà che è stata in qualche modo rivoluzionaria per dove è nata e perché è nata nel contesto di una fondazione che si occupa di arte. Quindi quando veni per la prima volta chiamato a discutere di questa possibilità, devo dire che ero un po' spiazzato perché non capivo bene cosa ci stessi a fare in quel contesto. In realtà sin dall'inizio l'idea di fondo è stata proprio quella di riuscire a inserire questo progetto in un ambito molto più ampio che è quello di promuovere verso il pubblico più ampio possibile il valore della scienza. E quindi c'è stata una base importante e solida su questo progetto che è proprio in qualche modo stata generata da quegli comportamenti emergenti, soprattutto negli ultimi anni, che hanno messo sotto accusa la scienza. Si è passato da una fase di quasi indifferenza, sembrava un aspetto per addetti ai lavori, a una fase in cui invece c'è stata addirittura una serie di azioni di contrasto. Quindi da qui è nata questa idea ed è nata ovviamente collocando la scienza in una dimensione un pochino più delimitata che è quella delle neuroscienze, avendo poi alla fine, e di quello di cui ci copriamo tra poco, in mente che occorreva fare qualcosa di importante per proteggere questo strumento prezioso che abbiamo nella nostra testa, che è il cervello. Quindi il programma si è mosso un po' con questa progressione e ha coinvolto una serie di attori a livello nazionale e internazionale, con diverse formazioni, diverse competenze, proprio per riprodurre un pochino la originalità di questo tipo di impresa. Il progetto ovviamente ha tratto vantaggio da alcune competenze presenti nell'ambito della fondazione, che è quello di fare mostre e di fare convegni e da questo punto di vista devo dire siamo stati molto fortunati perché la qualità da questo punto di vista era indiscutibile. Io ho avuto il grande onore di essere chiamato a coordinare questo progetto insieme a una serie di persone, come abbiamo detto, di diversa formazione. Massimo Cacciari, che è un filosofo, Viviana Casam, che è una giornalista scientifica, ma anche una persona che ha un ruolo importante delle neuroscienze, ha fondato i Brain Circles, fa parte della Hebrew University, dove ha un ruolo di coordinamento importante per le attività di ricerca. Credo che tutti voi conoscete Andrea Moro, che è un grande linguista, Daniela Perani per la sua competenza nell'ambito delle malattie degenerative, Letizia Leocani per la competenza sugli aspetti di neurologia funzionale e infine Udo Kitterman, che è invece portatore di conoscenze specifiche sul modo in cui si deve fare una esibition. I propositi che hanno guidato questo tipo di iniziativa sono stati inizialmente quelli di portare i non addetti ai lavori dentro il mondo della scienza, in più particolare nel mondo neuroscientifico, partendo proprio da un concetto che Paolo Zaratin ha usato nell'introdurre la mia presentazione, cioè l'idea era, occorre che innanzitutto si capisca il valore del cervello, se ne capisca la modalità con cui devono essere realizzati gli approcci, al fine poi di dare un senso alla condivisione anche da parte di tutti e non solo degli addetti ai lavori a programmi che abbiano come finalità il sostegno ad attività di ricerca nell'ambito delle malattie neurodicennative. Quindi è proprio stata un'evoluzione in qualche modo programmata. Quindi la fase iniziale ha riguardato questo, accompagnare le persone dentro il cervello, vedremo adesso come anche, e poi ovviamente quello di creare e supportare una comunità scientifica, neuroscientifica in particolare, facilitando al massimo l'interazione e la interazione trasversale e longitudinale, interazione non solo nell'ambito specifico, specialistico dei neuroscienziati, ma con un ampio allargamento ad altri stakeholders. L'aspetto fondamentale, ed ecco perché dicevo che è un aspetto un po' diverso da quello che abbiamo sentito finora, è stato proprio quello di sollecitare l'interesse pubblico, avendo in mente che poi alcune decisioni strategiche oggi, oggi come non mai, sono guidate fortemente dal modo in cui viene coinvolto il pubblico, con cui viene coinvolto il cittadino. Quindi senza questo tipo di condivisione si rischia di non avere la forza per poter poi realizzare progetti di cui abbiamo sentito molto questa mattinata. Quindi questo è stato un modo per poter sostenere questo tipo di processo, non so cosa sia successo, ecco, e il modo in cui abbiamo in qualche modo definito il percorso è stato quello di iniziare con una serie di eventi che avevano come oggetto quello di accostare il nostro cervello, l'oggetto del nostro interesse alle conoscenze, quindi è stato fatto un convegno su Culture and Consciousness, un secondo convegno di dibattito tra esperti su alcuni aspetti particolari del cervello e poi due attività chiave che sono l'esibizione sul cervello in occasione della Biennale di Venezia che è attualmente in corso e l'ultima attività che è quella su cui ci concentreremo che è questa Pressure in the Brain, cioè un evento che ha come obiettivo le malattie neuroregenerative. Culture and Consciousness ha visto il contributo di alcuni dei più grandi neuroscienziati, soprattutto di base, che hanno portato per mano alla conoscenza del cervello e dei suoi meccanismi di base, dal micro al macro. Le conversazioni hanno focalizzato l'attenzione su alcuni aspetti peculiari, come il cervello e la musica, il cervello e la matematica, il cervello e le emozioni e così via, ancora una volta con l'idea di portare dentro la complessità dei meccanismi delle funzioni cerebrali. E poi la Mostra di Venezia, aperta alla fine di aprile, che alcuni di voi hanno avuto modo di vedere. Questa Mostra ha voluto proprio cercare di ripercorrere il viaggio che ha fatto il cervello nel corso della pre-storia e poi della storia, per arrivare dalle diverse parti del corpo, la mente, scusate, nel viaggio che ha fatto nelle diverse parti del corpo, per andare a finire dentro la scatola cranica, perché ovviamente fino a non più di 500 anni fa si pensava che le nostre capacità, il nostro coraggio stesse nel fegato, le nostre emozioni affetti stessero nel cuore e il cervello è considerato un oggetto di scassa rilevanza dal punto di vista funzionale. Quindi far capire che siamo di fronte a qualcosa di estremamente recente, che le conoscenze che noi oggi riteniamo consolidate nel nostro cervello sono veramente un fatto assolutamente recentissimo e questo spiega anche una certa fragilità nel comprendere questo organo così importante. Questa Mostra ovviamente si avvalsa di una serie di contributi molto importanti di numerosi scienziati, uno degli oggetti forse più attraenti di questa mostra, per chi avrà modo di vederla, è costituita da questa stanza in cui si apre una conversazione tra diversi scienziati, ci sono tutta una serie di televisori che erano gestiti nello spazio e gli scienziati parlano di scienza come si parla di solito al bar, proprio per rendere approcciabile, comprensibile un meccanismo così complesso. E in merito di tutto questo va a Taryn Simon, una regista americana, che ha elaborato questo, questo è giusto per darvi un'idea di questi scienziati, qualcuno forse lo potete anche riconoscere. Ora, siamo invece all'argomento poi più specifico di questa mattinata, anche se io ripeto, ritengo le premesse che ho fatto siano fondamentali per poter portare avanti un processo di condivisione che vada al di là di certe barriere e che abbia veramente un coinvolgimento molteplice. Preservi in the Brain è nata come iniziativa, in qualcosa di molto diverso da ciò che abbiamo sentito fino ad oggi. Preservi in the Brain vuole essere una specie di piazza virtuale in cui si apre la possibilità di far incontrare persone, istituzioni di vario tipo, di vario genere, associazioni di malati, malati, ricercatori ovviamente, ma anche i decisori politici, ma anche gli esperti di comunicazione, perché si ritiene che solo attraverso questo tipo di interconnessione si possono superare alcune delle barriere che fino ad oggi ci hanno impedito di avere per qualsiasi delle malattie neurodegenerative di cui abbiamo sentito, una soluzione che possa essere considerata una cura e non un pagliativo o un modesto intervento. Ora, tutto questo ovviamente avrà una sua organizzazione e questa è stata anche l'altra novità. L'organizzazione è venuta da 13 istituti che hanno lavorato insieme per co-creare questo tipo di attività e sin dall'inizio quindi è stato un esempio di questa possibilità di tale vantaggio dalla compresenza di attori molto diversificati. Qui vedete i diversi istituti e centri di ricerca che hanno contribuito a realizzare questo progetto, sono veramente distribuiti in tutti i continenti e quindi hanno portato anche competenze e visioni non solo scientifiche ma anche culturali diverse. Ancora una volta un aspetto che credo sia importante sottolineare. Sempre, come abbiamo già visto, c'è questo grande interesse a rendere comprensibile tutto ciò che succede, a far partecipare a questi processi tutti i diversi attori, sia quelli specializzati e forse ancora più quelli non specializzati. Quindi non è certo un modo per sovrapporsi a quelle fantastiche iniziative di cui abbiamo sentito stamattina, sia nazionali che internazionali, da Tagliavini, da Perardelli. Qui si tratta invece di fornire il contesto, un contesto per poter far sì che tutto ciò avvenga, avvenga nel modo più appropriato, più produttivo e rapido possibile. Creare quindi il contesto perché questo si possa verificare. Ci sono una persona che è stata molto utile in tutto questo, Pierluigi Nicotera, che ha molto aiutato nel definire alcuni aspetti strategici di questa conferenza. Il convegno in sé sarà un convegno per necessità di spazio per inviti, per quanto concerne la parte fisicamente presente, ma sarà aperto in streaming a tutto il mondo. Abbiamo già nelle esperienze precedenti visto che con il tipo di network di cui la Fondazione dispone riusciamo ad approcciare circa 100.000 persone, quindi questo è il target per questo tipo di attività. Qui il tipo di iniziativa è costituito da tre componenti diverse. La prima è un classico convegno scientifico in cui si vogliono toccare tutti i punti più rilevanti che hanno in qualche modo in comune le diverse malattie neurodegenerative, soprattutto far sì che si tragga beneficio l'un l'altro dal pezzo di percorso che è stato fatto ai diversi livelli per comprendere questi tipi di condizioni. Si va ovviamente ad aspetti di ricerca di base, ad aspetti applicativi e ovviamente molto si discuterà di possibili strategie terapeutiche future. Questa è la parte più classica, avverrà il 6 e 7 di ottobre nella sede della Fondazione di Milano, ma poi accanto a questo ci saranno una serie di eventi, una serie di focus workshop che avranno luogo nei diversi istituti, però anche questi interconnessi in streaming e quindi con diffusione mondiale. Qui vedete i diversi istituti con il contributo specifico, ovviamente questi sono approfondimenti in alcune direzioni, necessariamente solo in alcune di queste direzioni. E il terzo evento è quello che ci ha dato più problemi, più difficoltà, perché l'evento terzo è costituito da una mostra, da una mostra che però ha caratteristiche un po' particolari, è una mostra biotecnologica e di tecnologie biomediche, se volete, ha un tema a questa mostra, il tema è il viaggio che corre fare per una pillola per arrivare nella bocca del paziente, cioè dalle ricerche di base tutto il percorso dello sviluppo di una nuova terapia, ancora una volta aperta al pubblico ovviamente, non dedicata agli esperti, quindi con un livello di comunicazione che dovrà essere necessariamente molto fruibile da parte dei visitatori. Questo tipo di mostra avverrà nella sede di Milano, questo vi dà giusto un'idea di quello che sarà questa mostra, e ognuno degli istituti che ha partecipato farà un pezzo del percorso, dalla scoperta dei target terapeutici, alla messa a punto delle strategie, alla loro validazione e alla loro fruizione da parte del malato. Quindi ognuno avrà affidato uno spazio fisico in cui svilupperà una parte di questi discorsi. Ora, dicevo, è stata la parte più difficile perché è qualcosa che doveva soddisfare sia un aspetto scientifico, ma anche alcuni aspetti che sono tipici di ogni mostra, quindi quelli di attrarre ad esempio l'attenzione, quindi una certa qualità di ciò che veniva presentato. È elemento fondamentale di questo percorso sottolineare l'estrema rilevanza del concetto di medicina personalizzata, in tutte le sue articolazioni, ed è altrettanto importante riuscire a far comprendere fino in fondo che la scienza lavora per successi e fallimenti, e che quindi qualsiasi di questi step che devono essere fatti non è privo di rischi, non è privo di errori, non è privo a qualvolta di clamorosi fallimenti. E questo è l'altro messaggio fondamentale che si intende ovviamente portare avanti. Ed è chiaro che il viaggio di cui parliamo è il viaggio di una fantomatica terapia che possa essere veramente una cura per le malattie neurodegenerative. Quindi questo è il tema conduttore da questo punto di vista. Bene, credo di poter quindi concludere il mio intervento sottolineando alcuni aspetti fondamentali. L'abbiamo visto oggi in tutti i modi che le malattie neurodegenerative, e io personalmente includo la sclerosi multipla a pieno titolo, devo giungere purtroppo in questo ambito, perché sappiamo tutti che questo è il vero unmatched need che abbiamo oggi per questa malattia. Non abbiamo una cura, non l'abbiamo, una cura e non l'abbiamo, e proprio per questo la assimilo totalmente a una malattia neurodegenerativa. Non c'è dubbio che le modalità con cui il nostro cervello, il nostro tessuto nervoso reagisce a aspetti patofisiologici che caratterizzano le diverse malattie neurodegenerative, sono in parte simili, non perfettamente sovrapponibili, ma sicuramente in parte simili, e quindi si può veramente imparare molto dall'una delle esperienze di una malattia sull'altra. Impossibile pensare di superare certi gap esistenti se non mettendo allo stesso tavolo i diversi attori. L'abbiamo già sentito più volte questa mattina, ma qui gli attori diversi sono veramente tanti, perché sono tanti quelli che hanno un ruolo nel poter tentare di risolvere questo tipo di problema. E il contributo che Fondazione Prada Human Brains intende dare è quello appunto di aprire lo spazio perché questo possa avvenire. Grazie per l'attenzione. Grazie per l'attenzione.